Con estrema fantasia andrò su una Fuzzimib, in realtà non è che lo farò in modo conservativo Pietro, avevo scelto dei valori conservativi, adesso fatemi andare sul grafico con un time frame a un'ora e lo vediamo, ecco, sostanzialmente io mi sono posizionato prima, ahimè, poi è capitolato tutto a vendita a 26,9, questo livello supportivo che è capitolato, con uno stop inevitabilmente ampio, l'ho messo sopra i massimi della giornata odierna, quindi a 27,5, la leva però l'ho abbassata, il target, guardate, io da qui non l'ho recuperato, va bene? Sono andato a recuperarlo utilizzando il grafico giornaliero e l'ho messo in prossimità di quelli che sono i primi supporti più importanti, si potrebbero in realtà puntare a dei livelli più bassi ma io ho messo su questi livelli, 25,7 e 50, l'obiettivo mi verrebbe quasi da girarla, sai l'operazione Pietro, andare a proporre un long su questi valori vedendo che di fatto molto già è stato fatto, quindi guarda, posso cambiarla innanzitutto, da short a long, allora io la giro, guardate un attimo come siamo strani come persone noi che guardiamo i mercati perché io avrei voluto vendere ma visto che il movimento lo sto perdendo vado a posizionarmi in acquisto su quest'area qui, quindi 25,6 e 90 come livello, uno stop lo mettiamo stretto inevitabilmente 25,5 e 50, secondo solo che modifico i livelli anche qui, 25,5 e 50, per quanto riguarda il target, beh muoviamoci con cautela e puntiamo a un 26,140, vediamo se va, 26,140, 40 punti, questa è la strategia, so che sono pazzo perché da short mi ritrovo a proporre una strategia long ma appunto prova a vedere se questo livello tiene in prossimità dei 25,7 se insomma lo vedete che qui questo grafico giornaliero qualche seduta ci aveva lavorato attorno stop sotto questo minimo è target nella parte alta, chi ha più coraggio ovviamente può puntare da prima ai 26,6 e poi a quei 26,9 che avevo indicato io come strategia ribassista iniziale, se dovessero le quotazioni tornare all'intervallo 26,9 e 26,9 e 50 beh è un buon punto di ingresso per strategie ribassiste grazie a tutti